Mi viene l'emozione perché attraverso questo tricolore nel periodo più buio ci hanno abbracciato tutti. Ecco a voi le frecce tricolori! Ci hanno rito nel loro abbraccio durante la pandemia, hanno toccato tutti i capoluoghi di regione, abbiamo avuto tutti i modi di vederli o dal vivo o in televisione. E credo che l'emozione pervada tutti, pervada tutti ogni volta che questo tricolore lungo chilometri viene dipinto nel cielo. Ma quello che hanno fatto non è un unico passaggio, ora ne seguirà un altro. La formazione si trasformerà a rumbo, attraverserà Piazza del Popolo e verrà verso il Pincio. Il tempo di compiere una Snyder, di effettuare la trasformazione e tra pochi secondi le frecce tricolori saranno nuovamente sopra le nostre teste. Quindi gli occhi al cielo, telefoni, telecamere, fotocamere e di nuovo le frecce tricolori. Grazie. 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 Grazie.